Amici, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio. Buona giornata, buon europeo, buon fanta europeo a tutti, quindi grazie di cuore ancora una volta per la presenza. Un video molto importante anche oggi, visto che appunto ci avviciniamo velocemente all'inizio dell'europeo. Tante ancora sono le informazioni da sapere, tante le informazioni che hanno giocato ieri sera. Quindi vediamo come hanno giocato appunto quattro squadre, in particolare Francia, Olanda, Inghilterra e Germania sono tra le top di questo europeo. Quindi una buona partenza, una buona base di partenza sulla quale ragionare. Prima di partire, info di servizio, vi ricordo di scaricare assolutamente l'app di Magic Goal. Una bibbia per i fanta allenatori, i ragazzi di Magic Goal hanno fatto lavoro esemplare, hanno attivato anche la funzionalità europeo, tramite la quale potete entrare in contatto direttamente con me in qualsiasi momento, tramite la funzione chiede all'esperto. Quindi bypassiamo altri messaggi e andiamo direttamente sulla piattaforma di Magic Goal. Entriamo in contatto direttamente, domande e risposte subito, in tempo reale. Quindi grazie di cuore agli amici di Magic Goal per questa bellissima funzionalità. Passiamo a parlare dunque della Francia, è veramente la favorita di questo europeo, una grande squadra, veramente completa in tutti i reparti. Ieri sera ha affrontato il Galles, l'ha battuto 3-0, gol di Mbappé, Griezmann e Dembélé. Attenzione all'uomo copertina che è Benzema, che ha tirato un calcio di rigore, quindi attenzione soprattutto alle girarchie in ottica rigoristi, perché Benzema si è preso il rigore. Vai a vedere appunto che possa diventare rigorista di questa Francia, anche se appunto ieri sera ha sbagliato il rigore. La Francia si è schierata con un 4-3-3, Lloris in porta, Pavard, Varank, Mbappé e Hernandez in difesa. In centrocampo, Tolisso, Pogba e Rabiot, vista appunto l'assenza di Kanté, visto che i giocatori che hanno disputato la finale di Champions League sono stati assenti per licenza. In attacco il tridente delle meraviglie, Griezmann, Vappé e Benzema, veramente tanta tanta roba, quindi formazione tipo quella di Didier-Champ, a parte l'assenza pesantissima di Kanté, ma che ieri sera appunto non si è fatta sentire. Poi sono subentrati Dembélé, Sissoko, Digny, Coman, Benjader e Kondé, quindi tanta tanta roba, veramente per Dechamp, una formazione stralipante, buona indicazione del tas di ieri sera contro il Galles, una nazionale veramente paurosa. Il Galles ha fatto la sua parte, c'è stata l'espulsione appunto al 25esimo di Williams, quindi il Galles in dieci ha dovuto un po' arginare il veramente l'impeto francese e ha fatto quello che ha potuto ha perso 3-0. Il Galles lo troveremo nel nostro girone, ha giocato anche lui con un 4-4-2, Ward in Porta, Mephan, Rodon, Ginter e Gunther e Roberts in difesa, Bay, Williams, Allen e More da centrocampo, James e Wilson di punta, poi sono subentrati Davis, Ramsey, Moore, Brooks, David e Kobe, ma di fatto non è cambiata un po' l'inerzia della gara, quindi Galles in estrema emergenza, brutta prestazione, segnata soprattutto l'espulsione iniziale che appunto è piegato gli uomini di Giggs, assente poi perché appunto per i motivi familiari come ben sapete. Passiamo a parlare poi dell'Olanda, Olanda che ha pareggiato 2-2 con la Scozia, un pareggio abbastanza inaspettato, abbastanza sorpresa, ha segnato l'uomo copertina, una doppietta di Depay, consigliatissimo, come vi dicevo un po' un bug per quanto riguarda le quotazioni, la quota 14 è veramente bassa, quindi vi consiglio di approfittare per quanto riguarda Depay, è veramente un grande giocatore, tra l'altro è un odore Barcellona, quindi seguitelo con grande grande attenzione. Per la Scozia, gol di Henry e Nisbet, l'Olanda si è schierata con un 5-3-2, Krul in porta, Danfries, Maduro, De Vrij, De Ligt e Windal in difesa, assente blinde, a centrocampo, Wijnaldum, Derul e Frank De Jong in attacco, Weghorst e Depay. Sono subentrati poi Bergheis, Luc De Jong, Promes, Klassen e Graven Baraka, attenzione perché appunto qualche assenza c'era come blinde, però la formazione era abbastanza quella tipo per quanto riguarda l'Olanda. Ottimo De Pai, veramente in grande forma, vista Barcellona per lui, nonostante De Vrij, De Ligt, la difesa non è sembrata proprio impermeabile ieri sera, quindi attenzione perché i presupposti per far bene in fase defensivea c'erano, evidentemente qualche meccanismo non funziona. Stai a vedere che appunto potrebbe essere tanto un po' in demerito di De Boer che in panchina non mi entusiasma perché appunto ha avuto esperienze passate non eccesse. La Scozia un po' mi ha stupito perché mi aspettavo veramente più remissiva, Gordon in porta, Forrest, Henry, Cooper, Terry e Robertson in difesa, il esterno del Liverpool, a centrocampo Armstrong, McGregor, Turbol e in attacco Christie e Dykes per un 5-3-2 interessante. È una squadra che comunque è stata abbastanza quadrata, il girone che ha è abbastanza complicato, l'aspetto poi il super derby a Wembley contro l'Inghilterra dove darà veramente tutto il possibile per cercare di portare a casa quantomeno un pareggio e quindi sarà veramente una grandissima partita questa Inghilterra-Scozia a Wembley, una delle più attese del girone eliminatorio. Passiamo poi a parlare dell'Inghilterra appunto, l'Inghilterra che ha battuto 1-0 l'Austria, tante assenze nell'Inghilterra, Saka goal, 4-2-3-1 per la squadra di Southgate, Pickford in porta, Arnold, Quadin, Ming e Trippier in difesa, il giovanissimo Bellingham con Reiss a centrocampo, Lingard, Gremlisch, Saka punto e che in di punta. Attenzione perché l'uomo copertina, Alexander Arnold, se è infortunato pare, non dico seriamente, ma abbastanza seriamente da valutare le sue condizioni, quindi occhio per il fan europeo. Tenetevi costantemente aggiornati sulla condizione di Alexander Arnold perché potrebbe avere qualche giornata di stop. In permesso, come sapete, come ho detto prima, i vincitori della Champions League, quindi tante assenze nelle file dell'Inghilterra, ha dovuto soffrire non poco l'Austria, certo la formazione era abbastanza, come dire, rimaneggiata, ma comunque l'ha portata a casa con 1-0, gol di Saka. 4-4-1-1 invece per la formazione di Franco Foda per l'Austria, Backman in porta, Lajner, Dragovic, Interheger e Friedrich in difesa, Baumgarten, Lajner, Schlager e Alaba a centrocampo, Sabitzer dietro la punta che Kalejic, come anticipato anche nelle proprie formazioni, Arnautovic, attenzione perché potrebbe essere un'esca per le aste del fantacaccio. È un'Austria che comunque non ha meritato la sconfitta attraverso di Sabitzer, ben seguito chiaramente da Mourinho. Quando si muove Mourinho, attenzione perché può essere veramente interessante e anche alcune occasioni fallette, hanno comunque portato a casa una sconfitta per l'Austria, ma come detto non proprio meritata in questo caso. Chiudiamo, chiudiamo con la Germania, la Germania che anche lei aveva tante assenze, ha portato a casa un pareggio 1-1 con la Danimarca, Danimarca che può essere veramente la sorpresa di questo europeo insieme all'Ucraina, mi avviso, ci possono stare come sorprese. La Germania di nuovo ha schierato un 3-4-3, Noyer in porta, Sule, Hummers e Ginter in difesa, Klosterman, Neuhaas, Kimmich e Gossens a centrocampo, Gnabry, Muller e Sané di punta. Una bella comunque Germania, anche un qualche assenza, vedi Gundogan e vedi Cross. Ha segnato a Neuhaas e dall'altra parte ha segnato Porsen, 1-1 che non dispiace a nessuno. Una Germania un po' sperimentale, passa in vantaggio grazie anche all'assist di Gossens, l'uomo copertina. L'Atalantino comunque vuole far bene anche il nazionale, quindi seguiamo con grande attenzione anche appunto le sgroppate di Gossens sulla fascia. Nella Danimarca 4-3-3, Schmeichel in porta, va a schiere, Westergaard, visto che appunto Christian Senac la sente come detto per la Champions League e Maere in difesa, Eriksen, Hoiberg, Delaney a centrocampo, Porsen, Brightwhite e Skowolsen di punta. Una bella Danimarca, tante le prospettive prese anche come proie informazioni da sottoscritto, da Danilo e dal suo team di esperti di Football Manager, complimenti a loro. È una potenziale sorpresa secondo me a Danimarca, come detto più volte, una bella prova, si concretizza appunto con i gol di Porsen, ispirato dal grandissimo Eriksen che veramente potrebbe fare un ottimo europeo, quindi attenzione anche in ottica fante europeo. L'interista secondo me può essere un ottimo colpo a un prezzo dire, comunque giusto, rapporto qualità-prezzo mi sembra assolutamente corretto. Vi ricordo, e poi vi lascio anche qui sotto, delle indicazioni importanti per quanto riguarda il Fante Europeo del Veterano. Abbiamo passato, se non erro, quota 400. Pazzesco, veramente un grande risultato. Qui sotto vi lascio le indicazioni per come iscrivervi. È gratuito il Fanta Calcio di Fante Europeo del Veterano, ha bellissimi premi in palio. Chiaramente, essendo così tanti, prevederemo altri premi, anche premi di giornata, premi top score, insomma ci saranno altri premi, quindi non perdetevi d'animo. Ci saranno premi importanti. È molto semplice, tramite Fanta Club, velocissima, le iscrizioni ci vogliono veramente cinque minuti, quindi grazie di cuore a chi vorrà partecipare a questo bellissimo Fanta Calcio. Abbiamo passato, come avete visto, quota 4.000. Grazie di cuore, veramente, a chi mi sta dando una mano per quanto riguarda il passaparola. Non costa nulla il passaparola del veterano. Fate un po' di pubblicità con i vostri amici, con i vostri contatti social. Potete fare anche dei like, delle visual, dei commenti, insomma, per far crescere sempre di più potenzialmente la visibilità del canale anche su YouTube. Quindi grazie di cuore a chi vorrà fare questa attività. Di Magic Home ve l'ho già dato in apertura. Scaricate l'app, è una bibbia per i fanta allenatori. E se volete, se potete, fate un giro qui sotto nel link per capire come funzionano gli abbonamenti al canale del veterano per far crescere sempre di più il canale, grazie anche al supporto audio-video ed economico, appunto, per far crescere sempre di più il canale. Quindi chi è curioso, chi vuole supportare il veterano, qui sotto ci sono le indicazioni per accedere agli abbonamenti. Grazie di cuore a tutti. Vi auguro buona giornata a tutti. Buon Fanta Calcio a tutti. Buon Europeo a tutti. A questo punto, buon Fanta Europeo a tutti. Qualsiasi dubbio, scrivetemi tramite Magic Goal. Buona giornata a tutti. A presto. Ciao ragazzi.